Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Stamattina è arrivata una notizia davvero triste nel mondo della musica italiana. Ci ha lasciati all'improvviso una figura leggendaria, un'ispiratrice senza pari di una canzone che ha segnato la storia della nostra musica. Sì, sto parlando di Giulia, colei che nel lontano 2003 ha ispirato il celeberrimo e dedicato a te e dei vibrazioni. È stato Francesco Sarcina, la voce di questa band iconica, a darci l'amaro annuncio della sua scomparsa. Francesco ha condiviso il suo dolore più profondo in un post commovente su Instagram. Ha scritto di lacrime che non riesce a trattenere, di un vuoto che sembra impossibile descrivere. E poi ha menzionato il dolore che immagina possa affliggere la famiglia di Giulia, una famiglia che lui stesso ama profondamente, proprio come ha amato Giulia. È un rimpianto che lo accompagnerà, quello di non aver avuto la possibilità di salutarla come avrebbe voluto, di non averle detto quanto le volesse bene. Giulia, nel video ufficiale di quella canzone, era incarnata dall'interpretazione magistrale dell'attrice Angelica Cacciapaglia.